È un progetto fotografico e pedagogico sul tema della violenza contro le donne, segni la mostra che sarà ospitata fino al 13 marzo prossimo nelle sale al piano terra del museo di Palazzo Braschi a Roma. La mostra si articola in 33 quadri fotografici che comprendono 42 scatti. Le autrici sono le artiste fotografe Simona Ghizzoni e Ilaria Magliocchetti-Lombi che hanno trasformato le testimonianze di alcune donne vittime di violenze domestiche in percorsi di immagini e testo che raccontano alcuni momenti della loro vita quotidiana. Con la mediazione dell'autoritratto Simona Ghizzoni ha rivissuto su di sé i racconti ascoltati e ripercorso le esperienze vissute. Ilaria Magliocchetti-Lombi si è invece soffermata sui luoghi, gli oggetti, gli spazi familiari dove la violenza è esplosa. Ad accomunare ogni scatto il focus posto dall'obiettivo su particolari apparentemente trascurabili che invece si sono rivelati segni da cogliere come indizi per individuare tempestivamente comportamenti o dinamiche violente. L'esposizione è realizzata dal Cortile dei Gentili e dalla consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con il Centro Antiviolenza Lilitz di Latina. Nei prossimi mesi il progetto coinvolgerà alcune scuole con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a trovare gli strumenti culturali ed educativi per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.